Sindaco Chieni, nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale è stato approvato un nuovo regolamento sui servizi cimiteriali. Quali sono le novità? La novità principale è che sostanzialmente l'inumazione e le tumulazioni potranno essere fatte anche il pomeriggio e questo permetterà ovviamente di celebrare i funerali anche in orario pomeridiano, perché fino ad oggi era possibile soltanto la mattina. Crediamo che questo sia un gesto di sensibilità dovuto rispetto a un momento anche particolare, ovviamente è un momento anche doloroso in genere per i familiari, per gli amici e per i parenti e consente sostanzialmente alle famiglie di scegliere qual è l'orario più idoneo per lo svolgimento dell'onoranza funebre. In questo modo qui dal lunedì alla domenica sarà possibile procedere alle tumulazioni, alle inumazioni sia la mattina che il pomeriggio. Tra l'altro questo provvedimento che ho proposto nel Consiglio Comunale ed è stato approvato all'unanimità è frutto anche di una richiesta che proviene dalla parrocchia perché in tal senso abbiamo verificato nel corso del tempo che era necessario rispondere a queste esigenze.